Oggi cerco di esaudire la richiesta di Riccardo che vuole andare a utilizzare due sensori a infrarossi ma poi vedete nel video ci può mettere qualsiasi cosa, io ho usato due pulsanti con la mia shield per andare a rilevare il movimento di un corpo e capire se va da destra verso sinistra o viceversa. Iniziamo subito. Riccardo mi ha chiesto di dargli una mano a risolvere un circuito con un sensore per andare a rilevare il movimento di un oggetto verso destra e verso sinistra. Tempo fa avevo fatto un circuito, un progetto, con una coppia di sensori IR che andava a vedere quando qualcosa gli passava davanti. Ovviamente ragionava in un solo verso. Come fare per rilevare il movimento di un oggetto sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra? Allora la soluzione è usare un progetto organizzato a stati. Rapidamente vediamo le connessioni e l'hardware. Nel circuito reale useremo due sensori a infrarossi o due altri sensori di qualsiasi tipo per esempio due switch o due fotocellule che si accorgeranno insomma quando qualcosa passerà di fronte. Per la nostra simulazione useremo due semplici pulsanti. Quindi userò la mia shield multifunzione che ha già montati i pulsanti sui pin 2 e 3. Questi pulsanti sono collegati con resistenza di pulldown. Quindi la connessione è questa qui, una resistenza alla 10k, pulsante che va 1 sul pin 2 e in modo analogo abbiamo un secondo tasto collegato sul pin 3. La scia che ho creato è utile per fare questo tipo di prove ed esperimenti. Poi utilizzeremo anche due led e troviamo già collegato sul pin 13 un led, se non mi ricordo se è giallo o rosso, poi va verso ground, resistore da 390, questo è il led, sul pin 12 un altro led con resistore simile, questo è il led e ground. Quindi questo è l'hardware. Cosa accadrà e come deve funzionare la cosa? Allora avremo qua il sensore 2 che guarda di fronte a sé e qui il sensore collegato sul pin 3, le chiamiamo 2 e 3. Avremo un oggetto che si avvicina. Faccio un pochino più grande perché poi vedrete il motivo. Quindi questo qui è il nostro oggetto che si sta muovendo. A un certo punto andrà a oscurare il sensore 2, poi si troverà su tutti e due, quindi andrà ad oscurare entrambi i sensori e dopodiché uscirà pian pianino dal campo del 3 per abbandonare l'area di rilevamento. Noi andremo quindi a rilevare una serie di segnali. In questa prima situazione non abbiamo nulla. Come entra il pezzo, qua rileveremo un fronte di salita sul 2, poi mentre il pezzo è abbastanza lungo oppure i due sensori sono molto vicini, quindi subito dopo dovremo rilevare un fronte di salita sul 3. Quindi tutti e due sono occupati. Infine avremo quando il pezzo lascia il 2 un fronte di discesa qua sul 2 e al termine di tutto un fronte di discesa sul 3. Come fare a registrare questa cosa? Serve un diagramma a stati. Impostiamolo così, avremo uno stato iniziale, lo chiamo weight, stato 0, in cui vado a osservare il fronte di salita del sensore 2 o 3. Nel caso abbia un fronte di salita sul sensore 2, allora scatto e vado allo stato 1. Nello stato 1, sto in attesa, se ho un fronte di salita sul sensore 3, allora passeremo allo stato 2. A questo punto nello stato 2, se vado a vedere un fronte di discesa, mettiamolo sul sensore 3, quindi l'oggetto ha abbandonato i due sensori e è uscito dalla loro area, finiamo in uno stato, che è lo stato 3, in cui accendiamo il led 13. Quindi metto 13 qua per ricordarci che è il led. E quindi abbiamo individuato il movimento da destra verso sinistra. Dipende ovviamente come sono messe le due fotocelli. Il led si accende per un istante e poi veniamo riportati nello stato 0, dove ci mettiamo in ascolto. Altro caso, un oggetto si muove al contrario di come abbiamo visto noi, quindi dal 3 al 2. La situazione è analoga, avremo altri due stati, faccio qui sotto. Quindi nello stato di attesa andremo a rilevare prima un fronte di salita sul sensore 3 e finiamo nello stato 4. Poi avremo un fronte di salita sul sensore 2 e quindi passiamo nello stato 5. Qui infine, se vediamo passare un fronte di discesa sul sensore 2, vuol dire che abbiamo fatto la transazione da sinistra a destra. Accenderemo il led 12 e poi potremo tornare da capo nello stato 0 per misurare qualche altro spostamento. Andiamo a vedere il codice. Per rilevare il fronte di salita di discesa è necessario utilizzare una coppia di variabili che misurano lo stato del sensore nel loop corrente e lo confrontano con lo stato all'interazione precedente. Quindi creiamoci quattro variabili. S1, prev, s1, s2 e prev, s2. Essendo stati, creiamo la variabile stato che mettiamo uguale a 0. Poi definiamo una serie di costanti che ci serviranno poi perché creeremo una funzione particolare per andare a determinare fronte di salita e di discesa. Li prepariamo con define. Diciamo define, mettiamo f, d, s, fronte di salita 2. Diamo in valore 1. Copio. Incogliamo qui. F, fronte di discesa, sensore 2. Poi copiamo queste due righe, c, 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 c. Abbiamo fronte di salita del 3 e di discesa del 3. Occhio ai numeri, 1, 2, 3, 4. E creiamo uno stato che chiamiamo quiet, quiet, che pari a 0 nel caso non ci sia nulla. Nel setup impostiamo i pin. pin mode, abbiamo detto 2 e un input poi prepariamo anche il pin 3 che è l'altro pulsante e poi i due led sui pin 12 e 13 12 e 13, questi sono gli output può far comodo averla seriale per vedere quello che accade quindi serial.begin9006 ora mettiamoci nel loop dobbiamo cercare di andare a interpretare i fronti di salita e di discesa e combinarli con lo sketch a stati quindi non è una cosa molto difficile come vedrete allora iniziamo a preoccuparci dei fronti di salita e di discesa come abbiamo già visto in altri video per capire se il segnale sale o scende dobbiamo fare due paragoni confrontare lo stato dell'ingresso nel giro precedente del loop con quello attuale se vedo una differenza se primerà lo e poi diventa i vuol dire che abbiamo un fronte di salita o viceversa di discesa se è costante invece il tasto resta premuto allora facciamo digital read di 2 e lo salviamo nella variabile s1 variabile s2 ci mettiamo l'ingresso 3 poi dovremmo salvare gli stati quindi prev s1 uguale s1 salvo s2 mettendolo in prev s2 ok dove faccio l'analisi di quello che accade quindi determino com'è il fronte crea una variabile n e questa sarà valorizzata da una funzione fdds fronte di salita e di discesa che adesso andiamo a definire è quella che ad ogni giro di loop va a confrontare lo stato corrente con quello precedente e dirà che cosa è accaduto darà un valore a n che sarà pari a una di queste costanti e noi capiremo in modo immediato se ho avuto un fronte di salita o di discesa oppure nulla definiamo quindi la funzione int fdds aperta e chiusa creiamo la variabile n la cui seguiamo il valore quiet cioè lo 0 e qui facciamo i confronti vado a vedere se s1 e not prev s1 quindi se s1 ora è true e il giro primo invece era false e quindi mettendogli davanti il punto esclamativo lo giro diventa true quindi se vi era questa cosa cioè giro corrente è alto e quello precedente era false posso dire di aver avuto un fronte di salita sul sensore 1 cioè pin 2 facciamo un return di fronte di salita 2 fds 2 copiamo lift perché poi le altre condizioni sono bene o male analoghe lo copio 4 volte in fondo facciamo return di n ora li aggiustiamo secondo caso se il sensore adesso è basso ma il giro prima era alto allora ho un fronte di discesa quindi fdd2 lo stesso per quell'altro quindi qua mettiamo un 2 che avremo fronte di salita sul 3 e poi qua facciamo snot s2 e prev s2 girando la frittata abbiamo fronte di discesa sul pin 3 in questo modo riusciamo a avere in modo compatto e abbastanza elegante la rilevazione dei fronti di salita e di discesa torniamo nel loop ora incastriamo lo sketch a stati switch di stato aperta e chiusa le graffe e qui dentro analizziamo tutti i vari casi seguendo il disegno che abbiamo visto prima quindi case 0 nel case 0 posso avere un fronte di salita sul 2 o sul 3 se è sull'1 vado sul stato 1 se è sul 3 andrò sullo stato 4 quindi faremo if il fronte di salita rilevato è dentro n quindi se n uguale uguale fronte di salita sul 2 allora mettiamo stato uguale 1 l'altro caso lo riportiamo subito sotto se ho un fronte di salita sul 3 allora lo stato diventa il 4 copiamo il case abbiamo case 1 nel case 1 sono qui attendo il fronte di salita sul 3 quindi if fronte di salita 3 allora stato 2 poi abbiamo il case 2 che è analogo nel case 2 però se lo prepariamo case 2 attendo fronte di discesa sul 3 se si passo lo stato 3 quindi abbiamo fronte di discesa sul 3 e se questo è vero passiamo allo stato 3 nello stato 3 possiamo stampare un messaggio e poi accendere il led quindi chiamo case 3 2 punti non dimentichiamoci il break qua sotto accendiamo accendiamo il led digital write 13 i lo teniamo acceso magari un secondo facciamo un delay 1000 e poi lo spegniamo per dare un'indicazione visiva che abbiamo avuto questa transizione da destra a sinistra o da sinistra a destra comunque dal 2 al 3 poi possiamo tornare allo stato 0 quindi stato 1 è 0 torniamo da capo se volete potete anche scrivere un messaggio sul serial fate serial punto println e qui mettete per esempio da 2 a 3 ora facciamo l'altro ramo avevamo già messo qui un primo salto possiamo copiare questi 3 case perché saranno meno male simili andiamo a incollarli qui e ora li sistemiamo allora abbiamo lo stato 4 nello stato 4 quindi case 4 vado a vedere se il fronte di salita è sul pin 2 quindi avremo FDS 2 se il fronte di salita è sul 2 allora andremo sullo stato 5 nello stato 5 attendo un fronte di discesa sul 2 quindi qui mettiamo stato 5 il fronte di discesa 2 allora lo stato diventa l'ultimo cioè il 6 andremo sullo stato 6 stato 6 cambiamo la scritta metteremo da 3 a 2 quindi sono tornato indietro e accendiamo l'altro led il led sul pin 12 per un secondo dopodiché torniamo da capo quindi questo qua è il nostro schema base facciamo un'osservazione potrebbe capitare che per qualche motivo io sono uno stato 0 arrivo al fronte di salita scatto sull'1 e immaginate che non rileviamo più il fronte di salita sul 3 allora per evitare un possibile blocco conviene far così nell'1 verifichiamo se per caso abbiamo anche un fronte di discesa sul 2 se sì vuol dire qualcosa è andato storto e quindi torno sullo 0 faccio lo stesso anche sul 4 se nel 4 rilevo un fronte di discesa sul sensore 3 è meglio che torno a 0 perché è come se qualcuno avesse coperto e poi ha tolto il dito chiaro potete poi modificarlo a seconda dei vari casi vedremo poi altre due variazioni su questo tema come modifichiamo qua se avete capito la tecnica è abbastanza semplice allora torniamo sul caso 1 qui dobbiamo aggiungere un if extra quindi lo copio questo lo incollo qua e l'extra va a vedere se ho un fronte di discesa sul pin 2 allora torno sullo stato 0 mi copio questo if ci mettiamo anche sullo stato 4 che è il suo analogo dovremmo invertire tutto quindi se qui ho rilevato un fronte di discesa sul pin 3 allora torno sullo stato 0 perché qualcosa non è andato come deve quindi salviamo compiliamo carichiamo e vediamo se tutto funziona ecco qui realizzato sulla mia shield quelli sono i due tasti che fanno da sensore ne schiaccio uno lo tengo premuto poi schiaccio l'altro vedete che si accende un led se faccio al contrario quindi uno tengo premuto quell'altro e lo lascio andare si accende l'altro led quindi rilevando i due passaggi da una parte e da quell'altra ringrazio Riccardo per avermi proposto questo video che è molto interessante e intrigante anche perché avevo toccato questo argomento ma solo in un senso quindi solo da destra e sinistra ci ha permesso di andare a ragionare su un caso pratico e che penso possa essere utile a molti nei prossimi video vedremo alcuni approfondimenti e variazioni su questo tema vi ringrazio vi saluto ci vediamo domani ciao ciao